La storia del popolo di Israele è la storia di un popolo sempre in cammino, come è sempre in cammino l'umanità. Un cammino fatto anche di difficoltà e di prove. Nel libro dei numeri la Bibbia per la prima volta ci presenta la sofferenza come occasione per arrivare a Dio, occasione per salvarsi. Padre Giovanni, ci racconti quell'episodio del serpente, dell'asta? Il popolo ebreo mormorava contro Mosè, anzi si lamentava con lui perché l'aveva condotto alla libertà, liberandolo dall'Egitto dove almeno era garantita la sussistenza. Qui nel deserto doveva contentarsi della manna, un cibo leggero, si lamenta il popolo. E allora Dio castiga il popolo inviando dei serpenti venenosi. Allora Mosè intercede presso il Signore perché liberasse il suo popolo da questo danno, da questa tragedia. E Dio allora suggerisce, costruisci un serpente di rame, innalzalo e chiunque sarà stato colpito dal morso dei serpenti, guardando questo serpente di rame, sarà guarito. E' un po' la rappresentazione della croce. E infatti nel Vangelo di San Giovanni, Gesù dice, ecco, come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto, così è necessario che venga innalzato, sia innalzato il figlio dell'uomo perché chi crede abbia la vita eterna. Il morso del serpente, che cosa rappresenta? Il morso del serpente, lì nel deserto, era il castigo. Però quando il serpente viene innalzato, ecco, il serpente diventa l'antidoto contro questo male. Quindi il serpente diventa occasione di morte e occasione di vita. Come è possibile? Cosa vuol dire? Appunto questa duplice interpretazione del serpente. Se lo intendiamo in un senso negativo, è simbolo quindi del male, del peccato e del maligno. E quindi questi morsi sono per noi velenosi. Ma essendo la nostra esperienza umana, la nostra condizione umana, intrisa, ecco, dall'esperienza del male, evidentemente soltanto guardando il Signore, noi, così ci dice l'Evangelista Giovanni, guardando lui che è innalzato, quindi alla sua croce, noi abbiamo questa vita eterna. Quindi l'aspetto positivo, perché la sofferenza può diventare veramente una occasione di salvezza. Perché la croce porta al risurrezione. È il passaggio, è il passo necessario per arrivare alla risurrezione. E la croce è il simbolo, il segno dell'amore totale di Dio e del suo servizio all'uomo fino al dono totale di sé. Come dire che quando offriamo la nostra sofferenza un po' imitiamo quello che è stato il dono di Cristo, no? Non soltanto è un'imitazione, ma addirittura è un completare ciò che manca, come dice San Paolo, alla passione di Gesù.